ciao a tutti amici di roma view ben trovati eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ma prima di andare ad unboxare questa splendida edizione startup limited edition di cg vi ricordo che se vi piacciono questi video di mettere un bel like e soprattutto di iscrivervi al canale di attivare la campanella per stare sempre a giornale dell'uscita dei prossimi unboxing e non da questo mese tra l'altro ho iniziato ad essere anche ospite del canale film e more di colpiccio un canale dedicato alla possibilità di vedere film in modalità totalmente gratuita su youtube del catalogo di colpiccio ovviamente non le ultime novità ma qualche bel film ci scappa sempre fuori nel quale ogni tanto vi presenterò qualche video unboxing e nesco in esclusiva ovviamente dei prodotti della igolficcio ma torniamo a noi e soprattutto torniamo a questa splendida edizione di batterio real edizione realizzata grazie al contributo di tutti gli appassionati tra l'altro anche del sottoscritto che ci ha messo un anno per arrivare tra le nostre mani tra l'altro a me è arrivata anche rovinato e adesso mi dovranno sostituire purtroppo l'edizione ma l'unboxing ve lo devo fare con questa perché questa ora ho tra le mani devo dire che è un gran bel cofanettozzo all'interno sia il primo capitolo di battle royale che il secondo in tutte le versioni director revenge requiem chi più ne ha più ne metta e con il primo capitolo anche in 4k anche se c'è qualche erroretto che non so se verrà corretto ma comunque ne parleremo a breve devo dire che è un gran bel box anche se molto molto ingombrante anche questo è più alto di quello delle ali della libertà che vi vado a presentare questo mese guardate qui quindi una bella bella ciavatta vi vado a fare proprio la presentazione c'è stamacco nella ripresa che quanto quanto è alto e all'interno come dicevamo a un bel po di robetta quattro dischi per il primo capitolo e due per il secondo la bellezza quindi di quattro blu ray e due dischi 4k e poi c'è anche un bel libro fotografico con un po di contributi sul film battle royale sul cast però nel libro ci sono anche i dettagli dell'edizione ma soprattutto i nomi di tutti i partecipanti alla start up si apre a mo di libro e all'interno troviamo tutti i contenuti nella parte posteriore c'è il numero della tiratura perché sono mille copie numerate ed è disponibile ragazzuoli solo sul sito della cg io vi lascio il link in descrizione ma lo trovate solo lì poi non so se qualcuno su ebay lo comprerà e lo metterà in vendita o ma come vendita ufficiale è solo sul sito della cg vi ricordo numerato a mille copie io purtroppo c'è una bella pezza qua sopra quindi sta sto numero probabilmente andrà perduto vedete c'è una pezza ve lo dovrò far sostituire già ho scritto e aspettando risposta dalla assistenza all'interno troviamo dei porta dischi fatti a mo di libro questo è quello dedicato al primo battle royale sono la bellezza di quattro dischi all'interno disco 4k della versione si cinematografica disco 4k della director disco blu ray della cinematografica disco blu ray della director sul fondo del porta dischi del raccoglitore abbiamo la riproduzione di alcune delle armi del film io vi ricordo che questo è un film violentissimo che ha avuto un notevole successo tratto da un romanzo per l'appunto battle royale del quale è stato fatto anche un manga di discreto successo e ha avuto un successo incredibile non solo in giappone ma in tutto il mondo ed arriva finalmente in questa versione restaurata devo dire che è restaurata in una maniera pazzesca devo dire un 4k incredibile anche il blu ray si difende alla grandissima ci sono tantissimi contenuti speciali interviste speciali sulla prima speciale sulla colonna sonora riprese durante il set c'è veramente tantissimo materiale per tutte e due i film un'edizione che vi straconsiglio ma vi dicevo che c'è qualche magagna perché c'è qualche magagna perché tutto bello tutto grande però innanzitutto bisogna dire che la versione cinematografica di battle royale è priva del doppiaggio italiano il doppiaggio italiano nuovo doppiaggio italiano tra l'altro è stato fatto solo per la versione director cut mentre la versione cinematografica non ha doppiaggio quindi visibile solo in originale con i sottotitoli e poi c'è un piccolo problema che quanto riguarda solo il disco 4k e solo per quanto riguarda battle royale director cinematografica il film non ha la divisione in capitoli anzi ha una divisione in capitoli ma solo in tre capitoli quindi potete saltare dal primo al secondo capitolo dal secondo al terzo capitolo poi tutto il resto del film è nel terzo capitolo quindi non è possibile schippare le scene ma dovete sorbirvi la visione di tutto il terzo capitolo ovviamente potete mandare avanti ma non potete saltare la scena perché per un errore probabilmente non hanno inserito la divisione per tutti i capitoli che sono stati creati perché nel menu ci sono ma in realtà poi alla fine nel disco non ci sono non so io mi auguro credo che sarà sostituito però al momento non ci sono notizie però il film ve lo potete vedere tranquillamente perché il disco funziona e il problema che non c'è la divisione in capitoli dopo il capitolo 3 ripeto a parte questo ottima edizione devo dire anche un gran bel nuovo doppiaggio e film strepitoso se non l'avete mai visto in sintesi proprio in sintesi una una classe di studenti e insieme al loro professore viene presa trascinata su un'isola dove si dovranno massacrare e ovviamente il professore sarà lì a guardare tutti gli alunni che si massacrano in un giappone in cui i giovani ormai non hanno più rispetto per gli anziani per gli adulti e tutto il resto vengono c'è una legge che praticamente permette di prendere una scolaresca infilarli su quest'itola e farli scannare tra di loro in tre giorni e solo chi sopravviverà avrà insomma la vita salva e si spera che cambierà modalità di vita questo è in sintesi la la trama di battle royale poi come vi dicevo c'è anche il secondo capitolo eccolo qua sempre dentro un altro raccoglitore e anche per quanto riguarda battle royale quindi cinematografica e director cut che sono in questo caso chiamate requiem e revenge per la versione requiem se non erro non è possibile vedere il film anche con l'audio italiano ma solo in originale quindi la stessa cosa della cinematografica per quanto riguarda battle royale primo capitolo mentre per il secondo capitolo ovviamente c'è il doppiaggio italiano che è stato fatto per la prima volta e per questa edizione quindi tanto di cappello non si capisce la scelta di non doppiare l'altro se non quella di fare un lavoro di tagli e cuci che ovviamente sarebbe costato un po e quindi hanno preferito non farlo qui un po una tiratina d'orecchia a meno che non è stata una decisione dei giapponesi che pure sono belli strani forti quindi potrebbero anche averlo chiesto loro però non c'è dato al momento sapere non c'è stata comunicazione da parte di cg per finire come vi dicevo c'è anche un bel libro di non tantissime pagine ma comunque molto prezioso con all'interno splendide immagini vedete qui tutta la classe con il grandissimo titano professore di questa classe che diventerà una classe sanguinaria e poi vedete qui ci sono tutti i dettagli dell'edizione vi vado così a confermare quanto detto dopo per il secondo capitolo quella solo per quanto riguarda i battle royale quindi tutti i dischi di battle royale guardate questa bella foto di kitano ci sono tantissime foto questa attrice qualcuno di voi la ricorderà all'interno di killbill ci è arrivata proprio dopo il successo ottenuto con battle royale qui abbiamo un piccolo saggio di battle royale la director cut quindi perché è stata realizzata la director cut poi qui abbiamo una piccola biografia del grandissimo regista quindi kinshi fukasaku spero di averlo pronunciato bene tra l'altro ha proprio chiuso con i film di battle royale la sua carriera e poi continuiamo con ovviamente altri inserti qui ci c'è c'è uno speciale ad esempio sul genere survivor nel cinema giapponese e poi si passa a battle royale 2 vedere qui ci sono tutti i dettagli e scusate vi avevo detto requiem è la revenge che non ha l'audio in italiano ma solo l'audio originale mentre la requiem ha il doppiaggio italiano realizzato proprio per questa edizione andiamo avanti con il librozzo se il nostro video veramente sta durando un'infinità che siamo arrivati a 10 minuti di video ma volevo farvi vedere un po tutte le scene qui vedete c'è una piccola lettera del regista la mia battaglia finale lettera del 2000 e poi continuano ovviamente le scene le immagini di scena insomma le scene fotografica voglio dire un'ottima scelta su questo aspetto insomma per completare questa edizione che al momento vi ricordo è esclusiva del e solo c'è solo questa edizione non c'è una edizione differente in esclusiva del sito di cg entertainment non so quante ancora ne troverete di copie però questo è quanto al momento è disponibile non so se terminate le copie ci sarà poi una stampa di normale di questo di questo film magari sì magari solo l'inizione con l'audio italiano o magari no lo scopriremo solo quando e se cg farà la dichiarazione di una ristampa tra le novità delle sue prossime uscite per questo video ragazzoli è tutto vi ricordo che questa è un'esclusiva del sito di cg vi lascio il link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo unboxing ciao ciao a tutti